Ma guarda questi! Ma cosa ti lamenti? Non sei ancora nato? Cosa ho da lamentarmi? Devo stare rinchiuso nove mesi a sperare che vada tutto bene. Mi possono fare esperimenti, uccidere, forse perfino duplicare. Insomma, non ho diritti. Ed io come devo stare? Zitto e muto. È possibile che non me ne freghi niente? Io sono uno di voi. Ma se non vediamo l'ora di tenerti tra le braccia? Tra le braccia? Ma guarda che io ho già due braccia, due gambe, due mani, dieci dita, la bocca ed il naso. Ma voi? Niente, non le notate neanche. Poi ha voglia lamentarvi che non nascono sufficienti figli, che la popolazione invecchia, che non c'è ricambio generazionale. In effetti hai ragione. Puoi dirlo forte che ho ragione. Dai, ripetelo insieme a me. Io sono uno di voi. Tu sei uno di noi. Ecco, bravo. Adesso smettila di fissarmi e vai a firmare anche tu per me. Sei ancora lì? Non c'è uno di voi. Il fuor di verdura.